Riprendiamo la nostra trasmissione, la casa della salute, incontriamo il dottor Liberato Di Leo, responsabile della formazione degli autoprotesisti del gruppo Videx Sivantos Audiology. Allora, dottor Di Leo, i problemi uditivi, le statistiche, quante sono le persone che hanno problemi nel nostro paese? Sono molti, siamo molti, anch'io sono tra quelli, sono 7 milioni di persone in Italia. Quando arrivano a fare diagnosi e a porti il problema di trovare una soluzione, un rimedio? Arrivano con un certo ritardo, con un certo ritardo rispetto a quello che sarebbe opportuno fare, perché prima si interviene e meglio è. In Italia pensi che quasi la metà degli italiani non ha mai fatto un controllo dell'udito. Quindi arrivano molto tardi quando il difetto è accentuato, si arriva tardi alla diagnosi. La strada per arrivare alla diagnosi, i campanelli di allarme? I campanelli di allarme sono il non percepire più con quella nitidezza tutte le parole che noi sentiamo dai nostri commensali o dai nostri familiari durante una conversazione, una festa. Soprattutto nei momenti di confusione, perdiamo questa capacità. Quello dovrebbe essere il primo, il primo. Poi anche per esempio la percezione di avere, di comprendere, di sentire peggio ad esempio le voci femminili, oppure quelle dei bambini. Quelli sono i primi campanelli di allarme. Le cause più comuni della perdita di udito, della ipoacusia? Ma guardi, un mio gran vecchio professore mi diceva che noi cominciamo a perdere l'udito da quando appena nasciamo, piano piano, piano piano col tempo. Quindi probabilmente dell'età, ma ci sono anche tutta una serie di motivi, alcuni farmaci ototossici. Quindi l'esposizione al rumore. Lei pensi che normalmente nelle città come Roma, noi viviamo comunque sotto stress dal punto di vista del rumore. E non è tanto l'intensità quanto il tempo a cui siamo sottoposti al rumore. Noi viviamo a rumori superiori ai 70, 80 dB e questi sono un problema per il nostro udito. Esistono forme diverse di ipoacusia? Sì, esistono una forma neurosensoriale, una forma trasmissiva e una forma mista. Dipende dal punto dell'orecchio che viene meno alla funzionalità auditiva. La perdita di udito non è solo fra gli anziani e negli anziani, ma può essere anche nei giovani per quali cause e nei bambini anche qui per quali cause? Beh, nei bambini ci sono delle cause genetiche, ci possono essere cause genetiche o magari delle malattie che hanno avuto le mamme durante il periodo di gestazione. Ma anche, come diceva giustamente lei, non è più una malattia dell'anziano. Adesso anche gli attuali 50-60 anni cominciano ad avere questo problema. Chi si occupa di curare l'ipoacusia? Lo specialista, il tecnico, chi è? Allora, il tecnico che si occupa di questo è l'audioprotesista. L'audioprotesista è un professionista sanitario che lavora comunque in maniera, con autonomia, ma lavora su indirizzo del medico o tornino la lingua. Ecco, come si forma l'audioprotesista? Che corso fa di studio? L'audioprotesista è un professionista che dal 2000 percorre un percorso, tre anni di studi universitari, ma soprattutto ogni anno, ogni anno, fa tutta una serie di studi, di formazione, è da lì appunto la mia figura, tutta una serie di formazioni per raggiungere dei crediti formativi. E in più è normato anche da un albo, quindi è un professionista sanitario a tutto tondo. Specialista, laureato addirittura con un corso triennale, una laurea triennale. Cosa succede a una persona che non vuole mettere l'apparecchio e continua a perdere un po' d'udito? Allora, dobbiamo dire che noi sentiamo col cervello. Le orecchie sono solamente un mezzo che convoglia, che porta, trasforma. Ma noi sentiamo col cervello. Bene. Il cervello non può non ricevere informazioni, altrimenti è come se fosse un muscolo che non si muove più e perde quella capacità. Quindi se noi non ripristiniamo questo, il cervello perde la capacità di elaborare i suoni. Quindi ecco perché, dicevamo prima, è importante farlo subito. Perché più tempo passa, più il cervello disimpara a elaborare i suoni. Gli acufeni, molte persone sentono questi rumori continui molto spesso, una grande sofferenza. Che cosa si può fare? L'audioprotesista può dare un aiuto? Infatti noi parliamo spesso, parliamo soprattutto di ipoacusia, ma ci sono altrettante persone, anche lì si parla di 6-7 milioni di persone in Italia, che hanno questo sintomo. Perché l'acufene è un sintomo, è un sintomo di qualcosa che non va. Ed è molto complesso gestirlo proprio perché bisogna trovare la causa. Nel frattempo, l'audioprotesista può aiutare a gestire, può aiutare il paziente a gestire l'acufene con una serie di attività, che possono essere la terapia cognitivo-comportamentale o l'arricchimento sonoro. Quindi l'audioprotesista è la figura preposta per fare questo. Per fare questo. Una persona che sta perdendo l'udito, che sente di avere questo problema, come trova un audioprotesista? Dove lo trova? Ma può andare sul... ci sono dei vari siti, vari siti dove appunto c'è, trova l'elenco degli audioprotesisti, c'è proprio il sito della nostra associazione, oppure pure sull'albo. Ecco, come funziona un apparecchio acustico? L'apparecchio acustico cos'è? Allora, io dico sempre che l'apparecchio acustico è come un meraviglioso strumento, non lo so, per esempio un'arpa, un pianoforte, che è bellissimo, no? È costruito in una maniera egregia, ma che senza il musicista non prende anima, non prende forma. Ecco, l'apparecchio acustico è questo. È un oggetto tecnologicamente evoluto, ma che senza l'audioprotesista non può prendere vita. Quindi l'apparecchio acustico è un insieme di tecnologia, è studio, è ricerca, ma ha bisogno dell'audioprotesista per funzionare. Lo stigma, molti di noi hanno paura di indossare l'apparecchio, c'è uno stigma, una paura di essere riconosciuti. Esiste ancora? Eh sì, è qualcosa di atavico, che deriva un po' dai tempi in cui i bambini che nascevano sordi venivano derisi perché a scuola sembravano quelli che rimanevano indietro, mentre invece non sentivano e quindi rimanevano anche muti. Per cui c'è questa paura, questa vergogna di essere additati come quello stupido, no? Quello che non arriva a capire. E questo piano piano col tempo riusciremo, vedrà che riusciremo a cancellarla questa cosa. E in più, c'è da dire anche un'altra cosa, che per l'essere umano è importantissima la comunicazione. Quando noi incontriamo una persona che non vede, facciamo qualsiasi cosa per aiutarla. Pensiamo invece alla terza volta che qualcuno ci risponde scusa non ho capito, ci nervosiamo. Per cui è tutto questo che fa parte di questa paura di non comunicare. Mentre invece quando capiremo che è peggio chiedere scusa non ho capito, che invece far vedere che uno porta l'apparecchio acustico, allora avremo superato il problema dello stigma. Ecco, la difficoltà maggiore nell'udito è il rumore che ci circonda. L'apparecchio acustico riesce a superare la difficoltà in un ambiente rumoroso? Allora, l'apparecchio acustico è fatto, l'audioprotesista regola l'apparecchio acustico per fare in modo che vengano ripristinati i suoni deboli, che sono quelli che noi perdiamo per primi, e che faccia in modo che i suoni forti invece non diano fastidio. Quindi dobbiamo rimpacchettare il mondo dei suoni in un campo da gioco delimitato, personalizzato per ogni singolo paziente. Gli apparecchi acustici sono tutti uguali tra loro o ci sono buone differenze tra l'uno e l'altro a seconda dell'industria che lo produce, della marca? No, gli apparecchi acustici hanno tutti, come intento si propongono, tutti quanti si propongono di far sentire meglio i nostri pazienti sicuramente, però non sono tutti uguali. Tutti quanti hanno al loro interno degli algoritmi, delle strategie, dei percorsi, delle strade che l'audiologo, il tecnico ha progettato per quel tipo di apparecchio. Come sapere quale apparecchio acustico è più adatto a quella certa persona e a quel suo difetto? È semplice, rivolgendosi all'audioprotesista laureato e normato dall'albo. E' quindi capace di seguire, di vedere il problema. Si, si deve creare, si crea un rapporto di empatia e di estrema fiducia tra l'audioprotesista e il paziente. I progressi più grandi che lei ha visto negli anni della sua attività, come era l'apparecchio acustico anni fa e come è oggi? È una macchina meravigliosa, soprattutto perché, ripeto, l'audioprotesista ha preso coscienza di come e quanto poter fare per il paziente dal punto di vista proprio applicativo. Dal punto di vista tecnico, pratico, si è passati da quello che era un amplificatore analogico a un processore digitale di grandissima potenza. L'apparecchio acustico immediatamente dà risultati o è necessario adattarlo, seguirlo, posizionarlo nel modo migliore? Si deve adattare alla persona che lo porta? Sì, ci vuole un po' di tempo, non è immediato, non è come gli occhiali, noi li vediamo immediatamente. L'apparecchio acustico, proprio perché interviene sulla parte, come diciamo prima, di elaborazione del cervello, ha bisogno di un periodo di riadattamento, che può andare anche da uno a quattro mesi, però ci vuole un po' di tempo. L'apparecchio acustico è uguale in un orecchio o nell'altro, è una replica l'uno o l'altro orecchio, o i difetti possono essere diversi e diverso l'apparecchio acustico? I difetti possono, diciamo, il calo uditivo può essere diverso dall'orecchio destro al sinistro e viceversa, e quindi l'apparecchio può essere settato, tarato in maniera diversa. Nella sua esperienza, colui che porta gli apparecchi acustici, soprattutto in un primo periodo, ha difficoltà e le supera rapidamente, oppure possono esserci difficoltà difficili da superare? Ci possono essere delle difficoltà, ma si superano. Si superano, le difficoltà sono di carattere fisico, organico, o solo psicologico, tutte e due? A volte una interviene sull'altra. E quindi ci sono condizioni. L'impianto cocleare, se ne sente tanto parlare oggi, ma il numero di impianti cocleari è estremamente limitato. Quando è consigliabile un impianto cocleare che inserisce con una chirurgia l'apparecchio acustico, diciamo? In pratica è un modo diverso di arrivare, come diciamo prima, al cervello, di mandare i segnali al cervello. È una macchina meravigliosa quella dell'impianto cocleare. E anche questa viene gestita dall'audioprotesista. E si interviene però nei casi in cui con l'apparecchio acustico non riusciamo ad avere degli ottimi risultati. Quindi che significa su quelle perdite uditive chiamate profonde? La mascherina durante gli anni del Covid è stata una spinta ad andare dall'audioprotesista a riconoscere il proprio difetto uditivo o è stato un rallentamento? È stata una spinta, dottore, perché la mascherina ha fatto da filtro, ha fatto da paratia nella comunicazione, ha fatto da filtro perché attenuava i suoni e in più ha fatto da paratia tra quello che noi utilizziamo quando parliamo con qualcuno che osserviamo il labiale. Anche per oggi noi abbiamo finito. Ci rivediamo la prossima settimana con altri argomenti di medicina. Arrivederci. A presto da... Lundbeck Italia Don Pe FB Vision Agaton Essential Medicines Signa Widex Human Assist Care Alpha Sigma Grazie a tutti i nostri spettatori